Ma cosa mi sta succedendo? Mi basta pensare se questo cucchiaino diventasse una bambolina. Ecco, vedete? È una bambolina. Ma cosa mi sta succedendo? Aldo Giuffre in Ma cosa mi sta succedendo? A che ora è fissata la riunione? Da mezz'ora. Beh, allora faccio un salto alla posta per pagare il telefono. Va bene. Ho giusto giusto il tempo. Ehi, lei deve fare la fila, eh? Indietro, la fila. Ma che pagate? Ma che pagate? A pagare c'è sempre tempo. Lasciate perdere e tornate a casa. Venga, venga avanti, la prego. Ma devo... Non si preoccupi, dia qui. Glielo riempio io il modulo. Ecco fatto. No, no, per carità, per lei tutto gratis. Ma cosa mi sta succedendo? Piano su, prendi quella cassa, dai. Oh, sotto, vai. Vieni. Aiutami un po', qua. Però, come per fisichino, è dura la vita, eh? Pensa che bello se fosse come sulle astronavi, dove non c'è la gravità. La cassa che alleggerebbe nell'aria... Au, vola. Ma cosa mi sta succedendo? Eppure sono un uomo normale, vesto normale, mangio cibi normali, bevo... Eh no, eh, non bevo più acqua normale. Ora bevo Idrits. Acqua preparata con Idrits. Acqua super. Sì, guardate. Visto? Normale e super. Da oggi in casa mia, solo Idrits. Perché solo Idrits è super.